Gli ordini venivano impartiti dal carcere e le donne li eseguivano. E' uno dei particolari che emerge dall'operazione denominata Donne d'Onore, condotta la scorsa notte dai carabinieri del reparto territoriale di Gela, e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Sette le misure di custodia cautelare eseguite, quattro dalle quali in carcere, due ai domiciliari e un obbligo di firma. Arresti domiciliari per Monia Greco, 40 anni, di Gela, e per Maria Teresa Chiaramonte, intesa Meri, 44 anni. Misure di custodia cautelare in carcere, invece, per Nicola Liardo, 43 anni, personaggio di spicco del clan Emanuello, Salvatore Crisavulli, 39, Giuseppe Liardo, 20 anni, e Salvatore Raniolo, inteso Toni, di 27. Obbligo di firma per Dorotea Liardo, intesa Doroti, di 22 anni. I sette rispondono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravato dal metodo mafioso, estorsione aggravata e danneggiamento con colpi di arma da fuoco. Secondo quanto emerge dall'inchiesta, la mente della presunta organizzazione sarebbe stato Nicola Liardo, il quale, assieme al suo ex compagno di cella, Salvatore Crisavulli, impartiva gli ordini dalla sua cella e gestiva un vasto traffico di droga, in particolare cocaina. I due capi famiglia avrebbero gestito i loro traffici illeciti grazie alle loro rispettive compagne, Moni Greco e Maria Teresa Chiaramonte. Giuseppe Liardo avrebbe svolto il ruolo di corriere, mentre Salvatore Raniolo avrebbe poi smerciato la droga proveniente da Catania. Contestate anche due estorsioni e danni di altrettanti imprenditori giulesi, uno dei quali sarebbe stato costretto ad assumere fittiziamente il figlio del boss. La presunta organizzazione, per imporsi sul territorio, avrebbe intimidito le vittime con danneggiamenti e colpi di pistola. In moltissime delle conversazioni intercettate dagli investigatori, gli indagati utilizzavano un linguaggio criptico per dissimulare il reale oggetto dei loro dialoghi, ovvero il riferimento alla droga. Il blitz da scorsa notte è interessato anche alle città di Catania, Palermo ed Agrigento. 30 i militari impegnati con l'ausilio di unità cinofile.